Sono stati realizzati il 5% dei lavori. Poi, dice, i 55 milioni di euro sono manutenzioni, molto meno di quello che aspettava alla Sardegna. E dice, alla fine abbiamo stanziato 967 milioni di euro. Falso, perché i dati sono appunto quelli che vanno edulcorati dal precedente passaggio. Per le entrate chiudo il capitolo. È un imbroglio l'accordo fatto nel 2006 da Prodi con Soru, che ha scaraventato sulla Sardegna la continuità territoriale, i trasporti e la sanità. E c'è stato un taglio netto su questo. Sulle basi militari non vado oltre, perché, ha detto il sottosegretario, abbiamo aperto un tavolo a gennaio del 2015. Stiamo parlando di questioni serie, sostanziali, che vanno della vita di un popolo, di una comunità e anche del rapporto tra lo Stato e quella che è stata definita Regione speciale autonoma. Bene, voi con questo atteggiamento state frantumando quel minimo residuo di collegamento tra lo Stato italiano e la Regione Sardegna. Con questo atteggiamento che vuole tavoli ovunque, che non affronta e non risolve, voi state portando la Sardegna verso una strada inequivocabile dell'indipendenza. Grazie. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2-1081 dei deputati Cupero ed altri, concernente iniziative in ambito europeo e internazionale per l'apertura di canali umanitari in relazione all'emergenza connessa ai flussi miglatori e misure per contrastare il traffico di esseri umani. Do la parola a Nero Cupero per illustrare la sua interpellanza. Grazie Presidente. Signor Sottosegretario, io, come tutti noi che siamo in quest'Aula, credo, non so dire se un'immagine è davvero in grado di deviare il corso della storia. Però so che alcune settimane fa, molto se ne è parlato, l'immagine di una creatura di tre anni adagiata su una spiaggia della Turchia, ha scosso la coscienza di milioni di persone in ogni parte del mondo. Ha conferma che una forza delle immagini esiste come esiste, io credo, una potenza delle parole. Ad esempio quelle di Kinan, siriano anche lui, ma che di anni ne ha già compiuti tredici, e che davanti ad una telecamera ha detto semplicemente così, se voi, quel voi era rivolto a noi, se voi fate cessare la guerra, noi torniamo a casa nostra.